C'è stata una riunione del Lanci, caffè o camomilla? Cosa avete preso? No, no, il Lanci è stato molto importante perché è stato un confronto molto costruttivo, con una grande dialettica democratica, su posizioni anche diverse, ma Lanci poi deve trovare la sua sintesi, è la casa di tutti i sindaci. Poi ogni sindaco al di fuori del Lanci esprime le posizioni autonome, non è che la pensiamo tutti allo stesso modo, ma quando si va poi a un incontro con il governo, credo lunedì, con il Presidente del Consiglio, si va a portare una posizione unitaria per avere anche eventuali, non solo correttivi ad una legge che ha degli aspetti molto negativi, soprattutto per i territori, per le comunità, per gli enti locali, per i sindaci, ma anche per avere delle circolari interpretative, perché sono delle questioni giuridiche davvero molto controverse. Poi ognuno di noi esprime, noi per esempio l'abbiamo fatto in modo netto, una contrarietà a questa legge che aumenterà l'insicurezza nei nostri territori e non è affatto una legge sicurezza, anzi, è una legge che produrrà molto più insicurezza in tutto il nostro territorio e per i nostri cittadini. C'è già questa sintesi o da qui a lunedì è ancora da trovare? Ho dialogato, c'è una sintesi su diversi punti con cui chiedere correttivi al governo e circolare interpretative dall'altro.